Assolutamente mi capita soprattutto di pensarlo durante l'allenamento, tantissime volte mi viene proprio voglia di fare ancora di più di quello che già sto facendo e quindi mi viene in mente che ne so, di voler fare un viaggio piuttosto che di mettermi al lavoro e fare ancora qualcos'altro, di imparare una lingua, di voler solo uno strumento. Montare quegli squali. Sento che posso imparare lo snowboard. Sento che posso fare un tiramisù perfetto, sento di poter domare un toro impazzito. Appena finito di allenarmi mi sento un gabbiano, però un gabbiano pieno di energie, sia perché è un animale libero, ma sia perché è in grado di magari volare e fare il giro del mondo.